Siamo noi, si mari Ok ora ora li riserchiamo Siamo qui oggi tantissime, siamo leo nonostante la costante represcina nonostante le vostre mancarellate anche oggi siamo di nuovo in piazza perché non è una giornata c'è il diritto all'apporto viene inserito nella Costituzione noi in Italia abbiamo ancora il 65% dei medici obiettori di coscienza e abbiamo assuntura ai consultori spedalieri che nella maggior parte dei casi non basta